solo a mattina inoltrata Megre si accorse che il tempo era grigio e che all'alba doveva essere caduta un po' di pioggia fino a quel momento il grigiore delle persone delle cose sommandosi alla sua tetraggine gli aveva impedito di guardare il cielo di accorgersi che per la prima volta da quando era arrivato alle sabla il mare aveva un colore verdastro con qua e là delle increspature quasi nere al commissariato gli uomini di guardia non avevano ancora avuto il cambio e c'era un'aria di grande sciatteria stanchezza e nervosismo ai piedi della scala come per caso si imbatté nel poliziotto che a mezzanotte aveva avuto l'idea della maestra chissà che età avevano le sue figlie riconoscendo Megre l'uomo trasalì aveva la giubba sbottonata i capelli scarmigliati doveva aver dormito su una panca ed ecco che si ritrovava davanti l'uomo che poche ore prima cercava insistentemente di scoprire l'indirizzo della ragazzina era assurdo tutto era assurdo quella mattina forse il poliziotto lo sospettava di essere l'assassino salì lentamente le scale la pipa aveva un cattivo odore si era rasato e vestito in pochi minuti e davanti alla porta aveva trovato la macchina della polizia che Mansu gli aveva mandato per guadagnare tempo perché mai aveva chiesto all'autista di passare per il ramblè probabilmente per dare un'occhiata alla casa del dottore che era lì al suo posto ben inteso tutto il primo piano appariva silenzioso con le imposte chiuse ma c'erano degli operai intenti a montare gli addobbi funebri sulla porta era passato anche davanti alla chiesa stavolta perché era sul suo percorso e aveva visto solo alcune vecchie con la cuffia inamidata che uscivano da una messa bassa nell'ufficio degli ispettori l'atmosfera era febbrile i telefoni scottavano negli occhi di tutti si leggeva lo stesso sconcerto e la smorfia delle labbra non esprimeva solo il disappunto di chi è stato strappato troppo presto al sonno ma anche disgusto e una collera sorda la maggior parte degli uomini non aveva avuto il tempo di farsi la barba non dovevano essere là da molto chissà se avevano trovato un bar aperto per buttare giù un caffè la porta in fondo si aprì mansù aveva spiato ansiosamente l'arrivo del commissario e lo aspettava sulla soglia del suo ufficio era così cambiato che maigret provò un certo imbarazzo ma forse la cosa era reciproca neanche mansù si era fatto la barba era stato avvertito per primo e per primo si era recato sul posto colpivano le sue guance invase da peri ispidi come gramigne di un rosso più scuro dei capelli i suoi occhi azzurro chiaro non esprimevano più timidezza ma autentica angoscia maigret venne avanti entrò la porta si richiuse e le pupille del piccolo commissario restarono fisse su di lui in un muto interrogativo maigret era troppo preso dei suoi pensieri per far caso alle reazioni altrui ma era logico che mansù fosse un po sgomento davanti a quell'uomo tarchiato che quando nessuno pensava ancora la ragazzina che di lì a poche ore sarebbe stata strangolata nel suo letto se ne era preoccupato ostinatamente e ne aveva dato una descrizione minuziosa penso che lei voglia andare laggiù disse mansù con voce rauga alle sable non aveva molte occasioni di vedere cose simili e ne era sconvolto lo si capiva da come aveva detto laggiù ho potuto raggiungere al telefono il procuratore della rossurion manderà i magistrati della procura intorno alle 11 forse prima se si riuscirà a riunire in fretta quei signori ha voluto anche avvertire la squadra mobile di poitiers perché mandi due ispettori non gli ho detto che lei era qui ho fatto bene si ha fatto bene non si occuperà dell'inchiesta maigret alzò le spalle senza rispondere e capì che mansù era deluso ma che cosa poteva fare c'è una gran folla intorno alla casa nonostante l'ora è in periferia quasi fuori città tutto un quartiere di piccole case con il loro giardinetto duffi e padre fa il guardiano notturno ai cantieri ha accettato quel posto quando gli hanno dovuto amputare un braccio lo vedrà deve essere stato terribile per lui senta com'è andata e il piccolo commissario con i gomiti sulla scrivania e il mento appoggiato ai pugni raccontò ha finito il suo turno alle 6 del mattino all'arrivo della prima squadra tutto si è svolto come al solito mi ascolti bene è un uomo calmo meticoloso le donne che si alzano presto possono regolare l'orologio sul suo passaggio rincasa senza far rumore intorno alle 6 e 20 tutto questo me lo ha spiegato in dettaglio e con voce da sonnambulo la porta d'ingresso da direttamente in cucina sulla sinistra c'è una sedia una sedia di paglia la vedrà ai piedi della sedia le sue pantofole si toglie le scarpe per non svegliare nessuno getta un fiammifero nella stufa dove tutto è pronto per accendere il fuoco la carta da giornale e i pezzetti di legno il caffè in polvere già nel filtro della caffettiera non appena l'acqua bolle la versa e gli rimane solo da mettere due zollette di zucchero nella scodella a fiori vedrà anche lei vicino al focolare c'è un orologio con il bilanciere di rame che segna le sei e mezzo quando reggendo una scodella d'offier entra sempre senza far rumore nella stanza della moglie da anni ogni mattina tutto si svolge allo stesso modo magre apri la finestra benché l'aria del mattino fosse piuttosto fredda continui la signora d'offier una donna magra pallida malaticcia non si è mai ripresa dall'ultimo parto il che non le impedisce di correre in giro dalla mattina alla sera e nervosissima sempre tesa sempre agitata una di quelle donne che passano la vita a prevedere catastrofi mentre il marito si toglieva la pesante tenuta da lavoro lei si è vestita ha osservato piove poco fa è piovuto infatti solo a quel punto magre guardo il cielo che era ancora grigio sono rimasti lì tutti e due per una mezz'ora è più o meno il loro unico momento di intimità poi alle sette in punto d'offier ha aperto una porta per andare a svegliare la figlia quelle piccole case non hanno imposte la finestra spalancata come sempre in questa stagione da sul giardino del retro lucille era nel suo letto morta il viso blu astro e grandi lividi neri sul collo vuole che ci andiamo adesso ma non si alzava ancora aspettava continuava a sperare gli sembrava impossibile che maigret non avesse niente da dirgli andiamo si limitò a sospirare questi la strada di periferia laggiù era proprio come maigret l'aveva immaginata ascoltando il racconto del commissario una di quelle strade in cui vivono le ragazzine come lucille con all'angolo la bottega che vende ortaggi coloniali petrolio e dolciumi con le donne sull'uscio di casa e i bambini che giocano sul marciapiede c'erano gruppi di persone davanti alle porte per la fretta alcune donne si erano semplicemente infilate un cappotto sulla camicia da notte un capanello più nutrito assediava una piccola casa simile alle altre presso la quale stava di guardia un poliziotto in divisa l'automobile si fermò i due uomini scesero ma a quel punto in piedi sul marciapiede maigret si fermò un attimo senza preavviso senza una ragione come succede a volte per la strada a chi soffre di cuore vuole entrare commissario fece cenno di sì la folla dei curiosi si aprì per farli passare ma si busso alla porta con discrezione fu l'uomo ad aprire non aveva gli occhi rossi ma l'espressione era ancora inebetita e si muoveva come in trance guardò mansù lo riconobbe poi non vadò più a loro la casa quel giorno era come se non fosse più sua la porta della camera da letto era aperta e una forma distesa sul letto emetteva un lamento continuo simile al verso d'un animale un medico del rione stava al capezzale della signora d'uffie che gemeva a quel modo mentre una vecchia con un'enorme pancia probabilmente una vicina si affaccendava i fornelli le scodelle a fiori erano ancora sul tavolo una piena di caffè latte quella che duffie alle sette stava portando alla figlia l'appartamento era composto di tre locali a destra la cucina che fungeva da soggiorno ed era piuttosto grande con una finestra sul giardino e l'altra sulla strada a sinistra due porte due camere una dei genitori sul davanti l'altra sul retro alle pareti e sul caminetto alcune fotografie avevano una figlia sola domandò megret sottovoce forse anche un figlio ma non credo che sia le sabla le confesso che non me la sono sentita di interrogarli a lungo gli ispettori di poitiers saranno qui fra poco e ci penseranno loro ma si confessava così di non essere tagliato per quel mestiere osservava di sfuggita megret che sembrava aver paura di entrare nell'altra camera la cui porta era chiusa non è stato toccato niente vero chiese ancora più che altro per abitudine professionale ma si fece cenno di no entriamo aprì la porta e con suo grande stupore sentì un forte odore di tabacco subito dopo scorse un uomo che stava in piedi nel riquadro della finestra e che si girò verso di loro per precauzione ho lasciato uno dei miei ispettori nella stanza disse mansù aveva promesso di farmi dare il cambio protestò questi fra un momento la rue nella camera c'erano due letti separati da un comodino due letti di ferro le cui sbarre spiccavano nere sulla tappezzeria azzurrognola quello contro la parete di sinistra non era disfatto sull'altro un lenzuolo copriva interamente una forma raggumitolata un armadio addossato alla parete di fronte un piccolo tavolo coperto da una salvietta con sopra un catino di smalto bianco un pettine una spazzola del sapone in un piattino sotto una brocca d'acqua e un secchio di smalto blu nient'altro era la camera di lucille che probabilmente la divideva con il fratello sa che è la vecchia in cucina questa mattina non c'era o forse non l'ho vista perché era pieno di curiosi ce n'è voluta per farli uscire la madre non ha sentito niente niente è già stato qui il medico legale probabilmente sì perché gli ho telefonato prima di venire lo richiamerò dall'ufficio infine magrè fece il gesto che si aspettavano da lui si avvicinò a passo lento alla testata del letto poi si chinò per sollevare il lenzuolo fu cosa di pochi secondi e subito dopo si diresse verso la finestra ma si gli si mise al fianco i tre uomini ispettore compreso osservarono il piccolo orto con la sua recinzione di paletti e filo spinato in un angolo si vedeva una conigliera nell'altro un capanno dove duffier teneva i suoi attrezzi e nel tempo libero faceva piccoli lavori sul terreno sabbioso crescevano alcuni ortaggi porri verde pallido cespi di lattuga cavoli e appoggiate ai loro sostegni cinque piante di pomodoro con i frutti ben maturi non avevano bisogno di parlare l'uomo era passato di lì era facile superare il filo spinato e ancor più facile scavalcare il davanzale della finestra oltre il piccolo orto si estendeva un terreno incolto e in lontananza si vedevano gli edifici di una fabbrica abbandonata se ha lasciato delle tracce disse l'ispettore sottovoce la pioggia di questa mattina le ha cancellate il collega charbonnet ha cercato si aspettava un cenno di approvazione da parte di maigret che rimase però impassibile quando mai si era preoccupato delle impronte lui e tuttavia passando per la cucina dove nel frattempo erano arrivate altre due persone maigret uscì nell'orto c'era un vialetto tracciato con delle pietre piatte raccolte nel terreno incolto i conigli lo guardavano muovendo il naso e lui colse qualche foglia di cavolo aprì la rete metallica della gabbia e la richiuse il grigiore di quella giornata ben si addiceva alla squallida vita di donne smunte e malaticce come la signora d'uffie che passano la vita a contar soldi che ora è domandò maigret senza pensare a tirar fuori di tasca l'orologio le nove meno cinque il funerale è alle dieci e mezzo vero ma si rimase un attimo interdetto istintivamente aveva collegato la nozione di funerale con il corpicino che avevano appena visto poi si ricordò dell'altra morta e guardò maigret con maggiore attenzione lei ci va sì crede che ci sia un nesso se me greudi non lo diede a vedere tornò lentamente verso la cucina la vecchia con dovizia di sospiri asciugandosi di continuo gli occhi con un angolo del crembiule raccontava il tragico evento ai nuovi arrivati un fratello di duffie e la moglie che erano stati avvertiti da alcuni vicini strano quella gente parlava voce alta con parole crude senza pensare che la madre della ragazza giaceva a letto nella camera vicina e che la porta era aperta così che i suoi gemiti facevano da contrapunto il racconto della vecchie l'ho detto a gerard non può essere stato che un pazzo perché io la conoscevo lucille forse meglio di tutti veniva a giocare a casa mia da piccola e le ho anche regalato la bambola della mia povera figlia permette un momento me gre le toccò la spalla e la vecchia si fece subito rispettosa per lei tutti quelli che vedeva là dentro quel giorno erano dei signori dei personaggi importanti il figlio è stato avvertito emile lanciò un'occhiata a una delle fotografie appese al muro che ritraeva un giovanotto sui 17 18 anni dai lineamenti delicati lo sguardo vivace e vestito con una certa ricercatezza ma emile se ne è andato non lo sa la settimana scorsa povera donna è terribile pensi signor giudice il figlio se ne va e la figlia chi è partito per il servizio militare un vero dramma per certa povera gente no no signore non ha ancora l'età per il militare mi faccia pensare deve avere 19 anni e mezzo qui guadagnava bene e i padroni lo rispettavano ma una settimana fa non va a mettersi in testa di andare a vivere a parigi così su due piedi senza dire niente a nessuno non ha lasciato neanche due righe ha solo detto che doveva lavorare tutta la notte e mart gli ha creduto è una che crede a tutto quello che le raccontano alla mattina visto che non tornava le è venuta in mente di guardare nell'armadio del figlio e ha visto che le sue cose non c'erano più qualche ora dopo il postino le ha portato una lettera di emile le chiedeva perdono le diceva che andava a parigi perché quella era la sua vita il suo avvenire e cose così me l'ha letta deve essere nel cassetto della credenza fece per andare a prenderla ma maigre la fermò con un gesto sa che giorno era aspetti un momento e glielo dico subito passò nella camera accanto e parlò sotto voce con duffier che la guardò un istante senza capire e lanciò un'occhiata al commissario chiedendosi perché mai gli facessero quella domanda comunque cercò nella memoria e le disse qualcosa doveva essere martedì la notte fra martedì e mercoledì sa se da allora hanno avuto notizie l'altro ieri mart mi ha fatto vedere una cartolina illustrata che aveva ricevuto da parigi il commissario mansù non si sforzava più di capire continuava a osservare maigre con un senso di disagio quasi lo sospettasse di possedere un potere demoniaco e quasi temesse di venire a sapere nel corso della giornata che il giovane duffier era morto anche lui mentre uscivano dalla casa a vedere un giovane alto con l'impermeabile di gabardin che si faceva largo fra la folla dei curiosi è un giornalista annunciò mansù maigre preferì svignarsela in fretta ecco che cominciava il solito circo giornalisti fotografi magistrati poi quelli di puatie con i loro interrogatori e gli specialisti della scientifica che si sarebbero accalcati nelle piccole stanze della casa con ingombranti apparecchiature e avrebbero fotografato il corpo della povera ragazza da tutte le angolazioni se l'aspettava osò finalmente domandare mansù sulla macchina che li riportava al commissariato e maigre con l'aria di scuotersi dei suoi pensieri sì mi aspettavo qualcosa sale un momento da me in ufficio il commissariato stava riprendendo la fisionomia abituale affollato di gente che aveva bisogno di un certificato di una firma di un documento qualunque pieno di poveracci che aspettavano seduti sulle panche che quei signori si degnassero di riceverli in tutti gli uffici chiedevano di mansù ma lui salì subito al primo piano hanno telefonato da poitiers gli annunciò un ispettore mandano pichet e buiver sono partiti in macchina da più di un'ora e saranno qui verso le dieci ci sono anche quelli della scientifica ci hanno chiesto di mettere un cordone di polizia intorno alla città e di interrogare tutti i sospetti già fatto rispose mansù e così dicendo lanciò a maigre un'occhiata mogia che voleva dire che cos'altro posso fare non serve a niente ma è la routine sono costretto a seguirla il dottor giamara telefonato e non ancora chiamalo e passamelo ormai sarà all'ospedale era il medico legale che dirigeva anche un reparto dell'ospedale civico dottor giamara parla mansù si capisco la procura sarà qui verso le undici è inutile che si disturbi prima del tempo dottore ci potrebbe anche essere qualche ritardo appena arrivano le telefono e lei può raggiungerci subito in macchina naturalmente fra le undici di sera e le due del mattino la ringrazio no no non sono io che dirigo l'inchiesta aspetto quelli di Poitiers come occhiata a maigre attimo di esitazione non credo che se ne occupi non ufficialmente ad ogni modo ben detto approvò maigre con un cenno del capo aveva afferrato tutto avrebbe potuto ripetere parola per parola le frasi del medico legale che pure non aveva sentito un esame superficiale non era sufficiente a stabilire l'ora della morte se non con grande approssimazione fra le undici di sera e le due del mattino se ne va vado al funerale ci farei un salto anch'io non so se a caso in chiesa ma chissà se troverò il tempo mi scusi con bellami e sempre quello sguardo ansioso fisso su maigre specie pronunciando l'ultima frase ma il commissario della polizia giudiziaria restava impenetrabile ma fra poco e se mi chiedono di lei dica che sono qui in vacanza era ancora troppo presto per andare dai bellami e comunque prima voleva passare dalle parti della darsena e non per bere certo entrò anche in uno dei soliti caffè e mandò giù qualcosa di forte ma quel che gli premeva era vedere la popina la bottega della pescivendola era piena di gente le maniche rimboccate l'amante di francis affondava le braccia rose e grassocce nelle ceste di pesci e crostacei pesava faceva scattare la suoneria della cassa che cosa ti do carina dava del tuo a tutte le clienti e con quegli occhi chiari la carnagione fresca in quel mattino grigio rendeva appetitoso tutto quello che le stava intorno a chi lo dici figlia mia gli strapperei gli occhi a quel porco e anche qualcos'altro quando si accorse di maigre fini di pesare quello che aveva sulla bilancia si pulì le mani nel grembiule e chiamò la domestica prendi un momento il mio posto melanie venga di qua signor maigre poi nella piccola sala da pranzo odorosa di buona cucina crede che l'abbia uccisa lui chi l'avrebbe pensato è ieri sera mentre ce ne stavamo qui tutti e tre a chiacchierare tranquillamente perché non me l'ha detto che era la figlia di marte siamo andati a scuola insieme non per molto conosce la cameriera della signora bellamy jean e come se la conosco anche se lei non mi conosce più l'ho vista girare a piedi nudi per strada la madre lavora la fabbrica di sardine ce l'avevano messa anche lei a 13 anni ma poi è andata a servizio e da quando fa la cameriera in casa del dottore non guarda più in faccia nessuno sa dove potrei parlarle fuori da quella casa non è facile non vede la madre da quando questa sia risposata non va a ballare va passa per la sua padrona questo sì la coccola la vizia dormirebbe sul suo scendiletto se la lasciassero fare e tanto se si degna di rispondere a francisco quando lui le parla ma dica avete intenzione di arrestare il dottore non credo proprio grazie comunque tornerà è commissario adesso non posso stare a chiacchierare ma se vuole venire a prendere un bicchierino stasera vorrei tanto sapere come andrà a finire eppure era un'anima sensibile e probabilmente se avesse avuto tra le mani l'assassino gli avrebbe riservato il trattamento annunciato poco prima nella bottega sulla spiaggia la gente era ancora all'oscuro del delitto e si vedevano come al solito mamme e bambini in costume da bagno ombrelloni palle rosse o azzurre bagnanti che si lanciavano nella spuma delle onde sul ramblè invece c'era gente vestita di scuro che si avviava verso la casa del dottor bellamy gente del posto vecchie conoscenze che si stringevano la mano sul marciapiede formavano dei capannelli guardavano l'orologio e barcavano con punti la porta parata a lutto con drappi neri e frange d'argento maigret riconobbe l'urse perret e altri compagni di bridge che avevano già fatto le condoglianze e aspettavano conversando entrò a sua volta non c'era stato bisogno di adibire uno dei saloni a camera ardente perché l'atrio era sufficientemente vasto la scalinata interna e le porte non si vedevano più c'era un unico fondale nero con i ceri che ardevano intorno una barra lussuosa e una gran profusione di fiori bianchi philippe bellamy il solo a presiedere la cerimonia stava in piedi immobile mentre tutti andavano uno alla volta a fargli un piccolo inchino dopo aver bagnato un ramoscello di bosso nell'acqua benedetta in quell'atmosfera cupa in cui spiccava solo la macchia bianca dello sparato del colletto e dei polsini il personaggio impressionava più del solito i suoi tratti sembravano più taglienti più marcati accoglieva le condoglianze di ciascuno con la stessa inclinazione della testa e del collo poi si raddrizzava e guardava dritto negli occhi chi veniva dopo maigret sfilò come gli altri e incontrò lo stesso sguardo puntato su di lui non vi lesse alcun conturbamento quello sguardo diceva che per bellamy lui era semplicemente uno dei tanti il vice prefetto arrivò con la sua macchina e parcheggiò a qualche isolato di distanza c'erano anche il sindaco il vice sindaco e tutti quelli che contavano in città chissà se parlavano della ragazzina assassinata arrivò il carro funebri poi ci fu il corteo che impiegò un certo tempo a formarsi e la lenta processione fino alla chiesa dal portale parato a lutto gli uomini presero posto sul lato destro e anche lì il dottor bellamy rimase solo in prima fila dietro di lui nel gruppo degli amici maigret riconobbe l'uomo anziano che il giorno prima accompagnava la signora gaudre questa stava nel settore di sinistra tutta vestita di nero e nascosta dai veli si portava continuamente al viso un elegante fazzolettino il cui profumo mescolato all'incenso arrivava fino al commissario avevano scomodato un organista dalla rossurion e c'erano pure un baritono e un coro di voci bianche a poco a poco la chiesa si era riempita e all'offertorio la sfilata dei fedeli durò quasi un quarto d'ora il catafalco impediva a megret di vedere bene la signora bellamy madre che stava vicino la signora gaudreux e il cui bastone ogni tanto strideva sulle pietre del pavimento odette bellamy non c'era francis passò e con lui la cuoca probabilmente jeanne la cameriera era rimasta in casa per stare vicino alla padrona quando uscirono dalla chiesa il sole aveva fatto capolino fra le nuvole e la strada aveva assunto un aspetto così familiare che ci volle un momento per rimettersi in sintonia con la cerimonia quindi ci fu il lento procedere alla volta del cimitero dove megret scorse per un attimo in lontananza il collega mance tutto trafelato e ancora con la barba lunga era comunque riuscito non senza difficoltà a fare atto di presenza bellamy venne accompagnato da pochi intimi fino al cancello poi salì sulla macchina del dottor bourgeois che l'avrebbe lasciato davanti alla porta di casa c'era forse una riunione di famiglia e la signora godrù e il suo compagno erano ammessi nella bianca casa del ramblè megret non vide più ma si e dovette tornare in centro a piedi quando guardò l'ora era mezzogiorno e dieci aveva dimenticato qualcosa trasgredito a un rito e non immaginava che quella dimenticanza aveva causato un piccolo dramma per la prima volta infatti la signora megret aveva ottenuto il permesso di alzarsi dal letto non camminava ancora ma per un'oretta non di più aveva raccomandato il medico l'avevano sistemata su una sedia a rotelle così sempre per la prima volta muovendosi lungo i corridoi aveva potuto sbirciare nelle altre camere e vedere i volti delle malate di cui nei giorni passati le erano giunti voci e lamenti cercando di non farsi sentire dalla signorina rinché più indisponente che mai la signora megret aveva ordito una piccola cospirazione con il concorso di suo armari de sanger si trattava di fare una sorpresa che telefonava immancabilmente alle 11 in punto in fondo al corridoio nel parlatorio dalle ampie vetrate che veniva chiamato solarium c'era un apparecchio telefonico suor aurelì era stata avvertita non appena il signor 6 avesse chiamato invece di rispondergli lei avrebbe passato la comunicazione sull'apparecchio del parlatorio così il commissario avrebbe avuto la sorpresa di sentire direttamente all'altro capo del filo la voce della moglie la sedia a rotelle era al posto convenuto con un quarto d'ora d'anticipo alle 11 e mezzo suor marie de sanger insistette per riportare la malata nella sua camera a mezzogiorno la signora megret delusa era tornata a letto e la suora cercava inutilmente di rallegrarla mentre sui lineamenti tirati della signorina rinche si indovinava un sorriso di trionfo ci sono due signori che l'aspettano suoi amici credo avevano molta fretta e si sono messi a tavola mi hanno chiesto delle camere ma non ne ho di libere il signor leonardo aggiunse quasi supplichevole lo prende un aperitivo vero i due uomini che stavano mangiando al tavolo di megret erano piscio e bouvoir ispettori della squadra mobile che avevano già lavorato entrambi con il commissario si alzarono come un solo uomo con il tovagliolo in mano ci scusi capo ma abbiamo giusto il tempo di mandar giù qualcosa prima che arrivi la procura ma non doveva essere già lì alle 11 sì se si fosse trovato il giudice istruttore ma era in campagna a pranzo in una casa dove non c'è telefono si è dovuto chiamare il municipio che ha mandato una guardia campestre insomma saranno tutti qui a luna e lei qualcuno forse man su doveva aver parlato loro del comportamento di megret perché i due si scambiarono un'occhiata complice io cosa lei in vacanza certo lo sappiamo vero bui vero uno doveva avere trent'anni l'altro poco più erano tutti e due del mestiere gente come si diceva al che desorfevre che sapeva il fatto suo piscio il più vecchio aveva rischiato la pelle durante l'arresto di un polacco e sulla guancia sinistra aveva la cicatrice di una pallottola megret assorto nei suoi pensieri si era seduto a tavola aveva spiegato il tovagliolo e ora si serviva dell'antipasto prestando un orecchio distratto a ciò che i due gli dicevano lo sa già vero che la piccola non è stata violentata in un primo momento si è pensato a una cosa del genere il delitto di un sadico e quello che ci avevano detto a Poitier la polizia di qui ha arrestato una mezza dozzina di vagabondi è pazzesco quante ce ne sono da queste parti ma se fosse stato così semplice lei non avrebbe drizzato le antenne fin dal primo giorno vero cercavano di farlo parlare beh noi non chiediamo che di lavorare con lei né io né Beauvoir conosciamo la città insomma per farla breve davanti al mutismo di maigret il povero ispettore non sapeva più cosa dire come vuole allora ma quelli della procura lo sanno di certo che lei è qui mi stupirei se non insistessero per vederla sono in vacanza ripete maigret versandosi da bere naturale se scopro qualcosa ve lo dico sempre leale lei capo a maigret sfuggì un sorriso ma fu un lampo non una vera e propria schiarita la fronte tornò subito a rannuvolarsi non aveva fame non si sentiva a posto come se stesse covando un influenza a ogni modo se ha qualcuno da far pedinare o altro grazie adesso dobbiamo filare è ora nel corridoio dopo che il signor leonard ebbe indicato loro un piccolo albergo dove cercare da dormire i due si scambiarono un'occhiata e sulla porta più sceo il più vecchio buttò la muso lungo il capo